L'addio Più volte aveva pensato di comunicare questa sua scelta a Zakari, ma in quei giorni non solo il suo corpo era debole. Sentì che se lo avesse fatto non sarebbe mai partito e per questo volle affidare le sue parole a coda pezzata. Lui avrebbe trovato il modo giusto per dirle. Infatti senza nemmeno provare a fermarlo, con uno sguardo amico, il giovane crew lo salutò indicandogli con la mano la via. Va, due vite, il mio cuore è con te. Nei giorni della definitiva solitudine, mentre vagava stranito eramingo, immerso nella natura meravigliosa, ogni volta che il dolore diveniva insopportabile, evocava a sé prontamente l'immagine del nonno, prigioniero in un corpo rinsecchito e maleodorante, invocare disperato la morte. Ne si quietava. Ho fatto la cosa giusta, pensava, ma in fondo era un uomo fragile, sempre in bilico fra le opposte possibilità. Sceglieva sempre e prontamente, sai, per questo, ma la sua non era decisione, bensì impulso. Soffrì come non immaginava e più ancora, ma la solitudine, come un amante discreta, in tutti quegli anni non lo aveva abbandonato mai del tutto, solo pazientemente atteso che tornasse a lei, e quella volta lo accolse, decise a trattenerlo con sé per sempre. Senza esserne cosciente, aveva appreso l'arte del pensiero. Bastava il frullo di un passero per migliorarne l'umore. Se la cosa gli dispiaceva, subito ne pensava un'altra. In quel caso immaginava la sua famiglia libera da un peso, e non priva di un amore. Forse erano vere entrambe le cose, ma lui decideva cosa pensare, e così facendo orientava la propria vita a ciò che in quel momento era meglio per sé. Una sola volta, indugiò troppo a lungo nel ricordare di Margaret, e fu devastante. Allora volle tentare subito di cancellarlo, producendo nuovi pensieri, ma esso persisteva, e gli riempiva la mente di quel suo viso docile e sorridente. Allora pianse, maledicendo il suo assurdo orgoglio, e poi urlò. Urlò, zittendo la natura, come possono farlo solo coloro che soffrono, perché si sentono colpevoli. Fu una notte penosa e buia, simile a quella in cui morirono Rebecca e la bambina. Ma il pensiero di tornare non lo sfierò neppure. Anzi, il mattino successivo riuscì perfino a immaginarla felice, fra le braccia di Zachari. Questa era la sua forza e il suo limite. Fra le braccia di Zachari, Margaret c'era stata veramente quel giorno, ma solo per essere sorretta a causa della disperazione, in cui era sprofondata quando aveva capito. Coda pezzata non ebbe bisogno di spiegare nulla. Quel mattino lei si era alzata felice, e dopo aver imburrato il pane, lo aveva cosparso di miele, sapendo quanto età ne fosse ghiotto, per poi attendere impaziente sulla soglia che il profumo del caffè lo attirasse a sé, pronta a farsi avvolgere dalle sue grandi braccia. Il cuore capì molto prima che i suoi occhi percepissero l'assenza del cavallo. Era già successo che Etan fosse andato via di buon mattino, ma quella volta sentì che era diverso. Già sapeva che non lo avrebbe più rivisto. Zachari fu pronto a tenerla prima che cadesse, ma fu l'unica volta che la abbracciò. Questo Etan non lo seppe mai, come non poteva immaginare che a Margaret, se fosse rimasto, non avrebbe inflitto quel peso che tanto la faceva in orridire. Comunque, ormai era lì, e ogni sera si fermava, pensando che quella sarebbe stata l'ultima, ma il mattino successivo riprendeva il cammino per vivere un nuovo giorno, curioso solo di vedere dove e quando sarebbe giunta la sua fine. L'autunno arrivò, e la morte tanto attesa non venne. Il corpo ormai gli apparteneva solo in parte. Per sentirsi in equilibrio sul cavallo dovette accorciare la staffa sinistra di alcuni buchi, ma il vigore che perdeva una metà di sé, per miracolo pareva acquisirlo l'altra. Era un uomo sbilanciato, ma ancora forte quando, mulinando, caddero su di lui le ultime foglie di quel mite autunno. Fino a quel momento aveva vissuto come se ogni giorno fosse l'ultimo, e pertanto solo il successivo, visto che non era ancora morto, si decideva a cacciare per non patire la fame. Ora però che l'inverno era alle porte, venne colto del timore del freddo. Forse sarebbe vissuto un altro anno, e questo andava superato senza soffrire troppo. Molte volte pensò di lasciarsi morire di fame, come sapeva facessero alcuni vecchi indiani, ma qualcosa in lui non lo permetteva. Sarebbe stato come suicidarsi e quindi fuggire da una sfida. Un gesto vile, di resa, già accaduto molti anni prima e che ancora gli bruciava. Che la morte arrivasse come doveva e quando voleva, si sarebbe fatto trovare ben vivo ad attenderla. Percorse ancora molte miglia nella nebbia umida del mattino, quando sostando in un vallone ombroso, volgendo lo sguardo in alto, vede una coppia di poiane a caccia di lepri compiere eleganti evoluzioni nel cielo azzurro. Mentre più sotto milioni di foglie, anche se vive per l'istante che il vento ancora concedeva loro, scuotendole dall'ormai incerta dimora, producevano un meraviglioso suono di fronda. Alcune cadevano su quelle che le avevano precedute in metallici tocchi, ben presto seguite da altre. L'autunno era il termine, meraviglioso, come piaceva a lui, in attesa di cedere il passo all'inverno selvaggio e a volte crudele. La vita senza un futuro non è poi male. Questo pensava, mentre ammirava il picco verticale dei rapaci sulla preda invisibile. Toglie l'angoscia del domani, un po' come per gli animali, liberi dalla catena dei ricordi. Da essi, infatti, traeva origine il dolore che a volte provava, ma poi rifletteva subito sull'immensa gioia di quello che aveva vissuto. E allora sorrideva, compiaciuto di non essere nato gufo. Troppi amori ormai andati, chissà se li avrebbe ritrovati a breve. Quella speranza segreta, che in alcuni momenti della sua vita fu anche certezza, lo portò quel giorno a desiderare di fermare il cammino come una di quelle foglie e abbandonarsi per affrettare quell'incontro. Ma in lui vi erano due sé e l'altro, quello che ancora non aveva compreso e voleva continuare a vivere, lo spinse con decisione a cercare riparo per la notte. Fino a quel momento poche erano state le persone incrociate e nessuna di queste in vena di condividere la strada con lui. Il suo aspetto non era certo invitante, ma lui non se ne curava. Sapeva ormai di essere in Kansas già da qualche tempo, pressapoco vicino a Topeca. Per uno che aspetta di morire, una stalla per la notte era più che sufficiente. Quando vi arrivò, pioveva già da giorni e le strade gli fessero tornare alla mente quella di Boulder. Bastò il fango di una città per far rivivere antiche memorie. Istintivamente appoggiò la mano sul sacchetto di cuoio che teneva sempre il collo, all'interno del quale, gelosamente riposto, scolorito ma ancora integro, stava lo struggente biglietto rosa. Lo strinse con nostalgia. Quello era un delizioso regalo di Margaret, fatto proprio per custodire quel ricordo. Che meravigliosa creatura era stata per lui, Margaret, un dono forse di Rebecca stessa. Quel pensiero lo spinse nuovamente nell'oscuro antro dei rimorsi, ma Etan quella volta non si piegò ad essi. Andando se ne le aveva fatto un gran dono. Questa era la sua verità. Lo rileggerò stanotte, decise con un fremito che non era di freddo. Senza troppa fatica trovò un ricovero per sé e il cavallo, in virtù di qualche dollaro che aveva portato con sé. Non faceva freddo e grazie alla sua consunta cerata non era nemmeno bagnato. Pertanto si accocolò sul fieno odoroso, deciso a rivivere parte del suo passato. Questa volta però il biglietto gli avrebbe riservato una piccola sorpresa. In verità non conteneva solo lo struggente messaggio di Rebecca, ma anche il pensiero di Evelyn, che lui aveva del tutto dimenticato. Fu sorpreso di riscoprirlo per la prima volta dopo tutti quegli anni e chiuse gli occhi per meglio portare a sé la memoria di quel ricordo. Sì, proprio di Evelyn, seducente, sensuale. Ma al suo cuore stanco non tornò che lo sguardo triste e profondo di una donna. E allora, nella solitudine di quella stalla, senza più il desiderio atturbarlo, ne colse l'essenza. Quelle brevi parole contenevano un messaggio che, dovete ammettere, nemmeno ora riusciva a comprendere del tutto, al contrario di Rebecca, che neppure l'aveva conosciuta. Però, quella volta, in un remoto fienile, la struggente Evelyn cessò di essere solo un dettaglio nella sua vita. Provò tenerezza per lei e nostalgia. Infine lo colse un torpore malinconico, che durò però il tempo di una breve veglia. Il sonno lo liberò da quei pensieri, come spesso accadeva, alleggerendogli la vita. La mattina, Topeca gli sembrò diversa, addirittura bella, nulla della caotica e sporca Boulder. Il fango c'era, ma ora che un tiepido sole la illuminava, lo rese curioso di visitarla. Sellò il cavallo e, senza montare, si diresse a percorrere la via sulla quale si affacciava la stalla in cui aveva dormito. Distratto da ciò che vedeva, gli ci volle del tempo per accorgersi che non ci ondolava più. Anzi, la sua andatura era diventata spedita e quasi regolare. Mi parve addirittura che anche parte dell'antico vigore fosse tornato. si rabbuiò a quella constatazione perché, avendo già abbandonato se stesso da tempo, non voleva essere costretto a riprendere il cammino della vita dopo aver lasciato tutto ciò che amava. Un pensiero assurdo, un pensiero assurdo, secondo solo a quello che aveva già seguito quando se n'era andato, fece capolino nella sua mente. Se la morte non arriva da sola, vediamo di darle una mano. Molte volte in passato aveva assistito a risse dove canaglie senza dignità opprimevano di volta in volta uomini meno forti o abili. Tranne rare eccezioni, si era sempre disinteressato della loro sorte, ma non senza rimorsi. Ora avrebbe rimeditato. Entrò nel primo Salun che vide con l'atteggiamento di chi cerca guai, ma forse per il suo aspetto o perché i guai si trovano in quel momento da un'altra parte. Non li trova mai. La città pareva ordinata e rispettosa della legge e lui non riuscì ad essere il giustiziere di nessuno. Anzi, in ragione della sua età, molti si dimostrarono cortesi con lui. Dopo alcuni giorni dovette constatare che la sua salute era migliorata. La vita rifluiva nuovamente in lui, come se una piccola diga avesse rotto gli argini. Se doveva continuare a vivere, era da uomo che occorreva farlo. Pensò quindi che fosse nuovamente l'ora di lavarsi. Non tanto per se stesso, quanto perché non sopportava più lo sguardo schifato della gente attorno. Accettò una tinozza di secondo bagno e si immerse senza disagio in un'acqua dal colore incerto. Quando la lasciò sembrava liquame e l'ha detto a non poter che vuotarla in strada con una smorfia di disgusto. Anche se non lo era, si sentì pulito e dovette decidersi a riprendere in mano il proprio destino. Cercò pertanto il maniscalco. Lui con i cavalli ci sapeva fare e parlare con chi se ne occupava, poteva portargli qualcosa di buono. Quando non sai cosa fare, fai qualcosa, qualsiasi cosa, e poi confida che tutto vada bene. Questo ricordava andasse fatto. Quasi subito ne trovò uno nervoluto e sghembo, intento a bestemmiare per la fatica di trattenere le zampe di un muro dispettoso. Il garzone che lo aiutava si era fatto male ad una mano e ora gli toccava fare tutto da solo. Ci vorrebbe qualcuno che ti aiutasse? Me, ad esempio. L'uomo lo guardò, contento di avere un motivo per sospendere l'ingrata fatica. Qualche anno fa certamente mi saresti stato utile, nonno, ma non ora. Etan sorrise per nulla contrariato, ma volle continuare a giocare con l'uomo. Tu credi, e se ti dicessi che sbagli, mettimi alla prova. E sia, se poi ti rompi un braccio, l'avrai voluto tu. Ma Etan il braccio non se lo ruppe, né quello e nemmeno i giorni successivi, anche se ogni notte il suo corpo urlava contro di lui. Quando il garzone tornò, era già diventato famoso nella contrada per essere il vecchio più robusto che si fosse mai visto. Ovviamente dovette lasciare quel posto al ragazzo, ma si era fatto degli amici e aveva incuriosito più di una persona per quella faccia piena di cicatrici. Un giornalista dell'Herald Tribune seppe di lui e volle conoscerlo. Mi chiamo Ned Wilson e lavoro per il giornale di Topeca. I nostri lettori sono curiosi di conoscere la vita di pionieri e curie de Bois. Mi si dice che lei è uno di questi. Avrà certamente qualche storia interessante da raccontare, suppongo. Etan lo guardò sorpreso. Ignorava chi fossero i curie de Bois, ma soprattutto si stupiva che vi fosse qualcuno al quale potesse interessare la sua vita. Sapeva cosa fossero i giornali, anche se non ne aveva mai visto uno. Perciò tacque, non sapendo cosa dire. Quel silenzio, forse a causa del suo aspetto, venne interpretato dall'uomo come un modo per tirare sul prezzo. Naturalmente sarete pagato per il tempo che mi concederete. Pagato? Pensò Etan sorpreso senza però darlo ad intendere. Perché non era uno stupido. Aveva già deciso che sarebbe rimasto lì fino alla primavera successiva e dunque gli sarebbe stato utile guadagnare qualcosa. Ok, rispose con il piglio di chi ha compreso tutto. Quell'inverno lo passò per intero a raccontare la sua vita. Alcuni episodi facevano ormai parte della storia di quella nazione, anche se non nella versione che ne dava lui, ma il suo racconto era credibile e il suo aspetto rustico e genuino lo fece diventare un personaggio fra le classi agiate di stile vittoriano della città. Quelle persone raffinate gli ricordarono molto Sir Alderson, ma a differenza del colonnello. Gli sembravano finte e per questo provava nei loro confronti un fastidioso disagio. Inoltre volevano che ci presentasse sempre con quel famoso vestito di daino ormai consunto dall'uso, in quanto intuivano, con ragione, che tutte le sue fibre fossero intrise di storia vera. Etan li assecondava e allora si divertiva a far inorridire le signore con i racconti delle torture e dei duelli. Finì l'inverno e il 6 aprile del 1878, come un germano migratore, anche lui se ne andò, all'alba come sempre, senza salutare nessuno. Nella bisaccia aveva la copertina di cuoio di un libro che non avrebbe mai letto, con sopra la sua fotografia, una diavoleria di quei tempi con su scritto Etan Colter, Story of a Man. Passo dopo passo giunse al limitare della città. Dunque proseguì senza una meta per un nuovo altrove, con una sola idea. Finire. Cavalcava lentamente, perché erano vecchi entrambi, lui e il cavallo, e scaldandosi al tiepido sole di quel mattino, indugiò senza potersi opporre nei ricordi più belli. Quando aveva lasciato Margaret, gli alberi fiorivano e di quello spettacolo si era riempito il cuore, certo di morire nell'inverno successivo. Ed ecco che ora ammirava quella nuova primavera, come chi ritrova un antico amore. Si stropicciò il viso per scacciare in qualche modo la nostalgia, vedette di sprone. Se avesse indugiato oltre, se avesse indugiato oltre, l'umitore degli occhi si sarebbe mutato in lacrime. Fece alcune miglia a un'andatura che il suo cavallo stanco non avrebbe potuto sostenere a lungo, quasi a voler lasciare indietro quel fastidioso nodo, perché nemmeno con se stesso era in grado di accettare quel suo lato rosa. Ma esso lo seguiva e giganteggiava ormai incontrastato dentro di lui. Allora si fermò per affrontare come sempre il nemico, quale esso fosse. Sputò aria unita a nulla per riconciliarsi con la sua parte maschile e proseguì. Questo era tutto quello che poteva fare. Giuse a Oklahoma il 22 settembre del 1878, nuovamente nella contea di Oak Mulge, in un villaggio completamente abbandonato, che gli riportò alla mente la miniera in cui Boston aveva vissuto. Il luogo era a suo modo desolato come quello, ma l'abbondanza di legname lo convinse a restare. Non avrebbe dovuto faticare troppo per smontare pezzo per pezzo qualche baracca attorno a quella scelta per se stesso, e poi la malinconia del luogo ben si conciliava con il suo umore abituale. I segni irreversibili della vecchiaia ormai non sarebbero più scomparsi. Da una gamba che trascinava come morta, gli serviva solo come supporto per stare litto in piedi, ma a null'altro. Non ci sarebbero state più partenze, anche se lo avesse voluto, perché appena giunto aveva subito liberato il cavallo. Passava quindi le giornate a pensare e ricordare, chiedendosi chi avrebbe incontrato per primo, una volta morto. Spesso rimorse di aver abbandonato Margaret e la figlia Evelyn, tornava ad opprimerlo, ma subito lo scacciava, e si complimentava con se stesso per averlo fatto. Lo sosteneva il caparvio orgoglio di averle sollevate dal naturale compito che la vita assegna alle donne, la cura. Amava osservare i corvi annunciare l'arrivo dell'inverno con il loro stridulo canto, e allora si metteva alla finestra, aspettando paziente la neve. Sì, la neve, che quell'anno, fatto insolito per quei luoghi, tardava ad arrivare, forse perché faceva troppo freddo in quella valle sperduta ai margini orientali della contea, dove solo... La neve cadeva fitta, e lui, età, ne fendeva senza fatica il manto immenso. Non si chiese dove era diretto, perché la sua parte nascosta conosceva bene la meta all'altra sconosciuta. Questa ora dirigeva i suoi passi, età citando senza troppa fatica che aveva vissuto fino a quel momento al posto suo, proseguì verso l'orizzonte nebbioso. Come fosse giunto lì non era importante, sentì solo che nel cuore andava formandosi una parola. Sì, tutto era strano, nemmeno il freddo corrispondeva alla neve, come sarebbe stato giusto. Chi sono? chiese Etan all'altro. Chi può dirlo? Nemmeno io lo so per certo. Chi sei tu? Molti, ma più di tutti Etan, per ora. Un puntino all'orizzonte distrasse la mente confusa e attirò a sé lo sguardo. La neve ci sciolse e ritornò l'estate. Ma non dove era lui, bensì sotto il grande albero, nella prateria assolata. Alle sue spalle una voce. Amico, anche tu qui? Sì, disse prontamente Etan, perché la risposta era da tempo in attesa di quella domanda. Poi, come se questo fosse naturale, immaginò la mano di falco nero appoggiarsi alla sua spalla. Ne sentì all'istante il calore virile, senza provare sorpresa né stupore. riconobbe non solo lui, ma anche l'essere che lo coabitava, al quale, come un cucciolo spaurito, rivolse lo sguardo dell'animo, per capire il senso di quello strano sogno. Non è un sogno, disse falco nero. Di questo nera, certo, avvolgendosi all'altro sé, attese un lume e o di una voce. Quando consegnerai alle ali del tempo la memoria di te, lasciandomi libero di proseguire con altri il cammino, per un breve palpito del tuo cuore saprai ciò che è necessario, ma ora prendi l'istante che ti occorre per comprendere. Etan, che senza averne coscienza viveva nelle terre a terra di mezzo, pensò di sentirsi stanco. Allora subito una sedia lo accolse, pronta a quel semplice immaginario vacillare, simile se non la stessa, su cui riposava suo padre la sera. Falco nero lo osservò con amore, muovere i primi passi verso la consapevolezza passeggera degli eterni camminatori, per svanire subito dopo, seguendo un caldo refolo di vento. Quello stesso alito portò alla coscienza di Etan l'ultimo messaggio di Falco nero. Non sei stato un vile per me, nuovamente solo sotto la neve che non lo inumidiva, seduto su una sedia antica ad ammirare l'estate della prateria? Questa volta Etan stranì di stupore, ma non quanto avrebbe potuto. Poi, a poco a poco, il pensiero di Rebecca tornò a lui come un perenne migratore. Aveva rivisto Falco nero, giunto con un semplice sorriso a portargli risposte sospese, ma pur sempre un semplice dettaglio nella propria vita. Ora certamente sarebbe apparsa lei a colmare il suo eterno vuoto. La speranza all'istante mutò in pretesa, ma lei non venne. Rebecca non ti ha mentito, la rivedrai. Sarai tu a decidere quando, disse a se stesso. Quella voce interiore collabiva con lui senza permearlo affatto. Fu allora che Etan sentì nel cuore, tutte insieme, quelle parole giunte a lui nella sua lunga vita da molte bocche, per portargli la chiave del risveglio. Quando la primavera arriva, i semi iniziano a germogliare e anche i terreni più inospitali sono costretti ad accettare un po' di raccolto. Per Etan quei semi germogliarono tutti insieme in quel magico istante. Improvvisamente capì, vede Rebecca guardarlo con un amore infinito, e anche se il suo volto fosse diverso, la riconobbe racchiusa, esile e delicata, come la ricordava nelle forti braccia di falco nero, anche egli mutato. Come lo chiameremo? disse lui. Ghiliade, rispose lei. Solo per un istante permase la consapevolezza, che subito dopo, le pagine nel libro della sua vita, tornarono bianche.